Invece le va di commentare che Conte ha detto che poco progressista ha conceduto il ceneritore. Dovrebbe rispondere a Conte? L'ho già fatto ma lo rifaccio anche perché questa polemica fa finta di non sapere una cosa, che se noi non avessimo deciso di realizzare un termovalorizzatore, noi oggi staremmo discutendo della mega discarica di Roma, che era prevista che si sarebbe dovuto realizzare. Quindi la nostra scelta, una scelta green in linea con l'indicazione europea, è zero discarica, perché le discariche consumano suolo, emettono emissioni, inquinano. Basti pensare a quello che stiamo facendo per bonificare la discarica di Malagrotta, che continua a essere un pericolo per questa città e per il territorio. Quindi noi abbiamo compiuto una scelta, no discariche. Io so che c'è un partito trasversale a cui piacciono le discariche, a cui piacciono i team B, è una rete di impianti vecchi, inquinanti e spesso opachi. Noi vogliamo invece che la città diventi una città moderna, pulita, come tutte le grandi capitali europee, che con i rifiuti non li metta sottoterra, ma produca energia. E questa è una scelta giusta, verde e sostenibile.